E' stata effettuata in tarda mattinata l'autopsia sul corpo del giovane studente francese Simon Gauthier. Ora si attendono i risultati per confermare quanto il medico legame al momento del ritrovamento aveva ipotizzato esaminando il corpo del ragazzo. Simon è stato ritrovato senza vita in avanzato stato di decomposizione in un dirupo in località Ciolandrea nel comune di San Giovanni Appiro. Lo studente francese aveva entrambe le gambe rotte oltre a numerose fratture e ferite importanti su tutto il corpo. Molto probabilmente verrà confermata la morte per emorragia dovuta alla recisione dell'arteria femorale. I familiari hanno lasciato il cilento e attendono in Francia l'arrivo della Salma per le esequie. Va avanti anche l'inchiesta della Procura di Vallo della Lucania per capire eventuali responsabilità sui ritardi nella macchina dei soccorsi. Simon sarebbe morto subito dopo la telefonata di richiesta di aiuto ma restano i dubbi sollevati da amici e familiari del ragazzo e ribalzati anche sui media in riferimento ai tempi riguardo gli interventi e sulla mancata geolocalizzazione del cellulare di Simon. Sistema di geolocalizzazione delle chiamate di emergenza del quale non dispone il 118 che ha richiamato ed inviato un sms a Simon senza ottenere risposte. Ad intervenire sulla vicenda è anche l'addetto stampa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Angelo Caprio. Abbiamo cercato Simon per più di una settimana battendo chilometri e chilometri di terreni impervi percorrendo tutti i sentieri della zona, poi l'avvistamento. Così ti prepari, fai un nuovo check dell'attrezzatura, zaino e spalla e dopo esserti svegliato ancora una volta alle 5 del mattino, aver speso un'altra intera giornata, setacciare pareti e canaloni sotto il sole rovente, parti al buio per andare a recuperare il corpo. Ore e ore di lavoro di squadra, manovre tecniche e di discese ripide con scariche di sassi per portare a mare il corpo. Consegni la barella alle autorità e aspetti che vengano a prenderti con un gommone per portarti al vicino porto. E questo è il duro commento dell'addetto stampa. Il pomeriggio del giorno dopo ormai continua, non hai riposato nemmeno un minuto, ti fermi un po' o non troppo che devi rimetterti in auto o in fare decine di chilometri se ti va bene per tornare di nuovo. Dopo 38 ore finalmente a casa perché il giorno dopo ti tocca andare al lavoro, il tuo vero lavoro, quello per portare a casa il pane. E senti poi gente e tg che parla di ritardo nei soccorsi che in Francia avrebbe fatto meglio, che le tv francesi hanno dovuto costringerci a far iniziare le ricerche. La verità la sai solo tu, i tuoi colleghi, gli altri operatori che hanno lavorato con te. La verità è che tu non volevi altro che riportarlo a casa sano e salvo, non volevi altro che i tuoi giorni di sacrifici venissero ricompensati con un sorriso dei genitori. Dovrebbero sapere che tu eri lì fin da subito a rischiare la tua vita per un tuo coetaneo che condivideva con te l'amore per la montagna. Dovrebbero sapere che tutto ciò che fai tu lo fai da volontario senza prendere un centesimo, anzi che tu usi i tuoi risparmi per comprarti l'attrezzatura, lasci i tuoi cari quando ti arriva la chiamata, che sia di giorno, notte o natale, accettando di non avere la certezza assoluta di rientrare a casa. Eppure tu ci sei, perché tu sei un soccorritore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che tu sia della Campania, del Lazio, della Basilicata o di qualunque altra regione tu ci sei.